Io sono Ele Rosa Mari e sono la responsabile marketing della Dixen Italy. Credo che la conoscete un po' tutti la Dixen, la nostra azienda è leader mondiale di prodotti a base di ganoderma e spirulina. È un'azienda che è nata ben 28 anni fa, che ha sede in Malesia, che produce e distribuisce prodotti a base principalmente di ganoderma lucidum. Questa sera però abbiamo scelto di parlare di un nuovo fungo, del quale in realtà non trattiamo da un po' di tempo. Siccome è un fungo che ha delle caratteristiche davvero fantastiche, volevamo appunto presentarvelo per farvi scoprire i suoi innumerevoli benefici. Perché pensate, è un fungo che va bene dai ragazzi praticamente in fase preadolescenziale fino proprio a quando si è molto anziani, perché ha tantissime caratteristiche diverse, ha tante peculiarità che vanno bene in varie fasi della nostra vita, a seconda della nostra età e a seconda anche della vita che svolgiamo. Perché vedremo insieme alle relatrici di questa sera che è un fungo che fa bene per gli sportivi, fa bene per gli studenti, fa bene per le persone che hanno un po' di disordini diciamo dal punto di vista dello stomaco. E poi soprattutto aiuta a mantenere in buona salute il nostro sistema nervoso, che devo dire è molto importante per la buona salute mentale. E quindi allora, siccome ci sono tantissime cose da raccontare a proposito di questo fantastico fungo, volevo invitare e presentarvi la nostra naturopata Patrizia Barbanti, che ormai ci accompagna in questi racconti sui funghi e le piante medicinali della DxN. Buonasera Patrizia. Buonasera, buonasera a tutti. E poi ovviamente la nostra top distributor Paola Rovelli, che è la più esperta in materia di prodotti e di materia prima della DxN. Ciao Paola, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a Rosa e a Patrizia. Allora io non vi rubo altro tempo perché so che avete tantissime cose da raccontarci. Lascio a voi la parola e ci vediamo più tardi. Grazie. Buona serata e buona visione a tutti i nostri amici che ci stanno vedendo qui su Zoom. E poi ce ne sono tantissimi che stanno visualizzando anche sui nostri social, sulle nostre piattaforme. Quindi buona visione a tutti e a più tardi. Benissimo, allora buonasera a tutti. Stasera parliamo, come diceva Ene Rosa, di un fungo che insomma è un po' di tempo che non parliamo di questo funghetto. Che vedete alle mie spalle in questa bellissima foto che ho rubato dalla presentazione di Patrizia. E' veramente bella, poi mi spiegherà lei che cos'è quella cascata dietro che vediamo alle mie spalle. E' un fungo alla quale io sono particolarmente legata perché lo sto prendendo da otto anni praticamente, da quando sono entrata in DXN che prendo tutti i giorni questo Lion's Mane. Un fungo molto particolare, Lerosa ha già svelato qualcosa, adesso Patrizia ci dirà sicuramente tante informazioni. Come avrete già avuto modo di vedere nei webinar precedenti, è molto importante ascoltarli perché ci sono sempre delle informazioni in più che magari non conoscevamo, delle informazioni che vanno un attimino, partono praticamente dai principi attivi del fungo per andare poi a vedere quali sono gli organi interessati dai benefici effetti di questo fungo. In questo caso sono veramente tanti, ma sono proprio degli argomenti abbastanza, diciamo se vogliamo, sono delicati e importanti, si parlerà di nervi, di sistema nervoso, di funzioni cerebrali, di depressione, ansia, di problemi legati allo stomaco, all'intestino e all'immunità. Quindi non voglio perdere troppo tempo, adesso condivido lo schermo e faccio partire la presentazione. Eccola qua, ditemi se la vedete, condividi. Ok, allora mettiamo a schermo pieno e in modalità presentazione dall'inizio. Ok, Patrizia lascio a te la parola e ecco la nostra Patrizia con una bellissima foto, bella sorridente come al solito. Eccoci qua, allora, allora incominciamo a scoprire qualcosa di questo bellissimo fungo che vedremo anche tra un po' in questa presentazione. Come si chiama? Lion's name. Benissimo, quindi cosa c'è sotto? Che cos'è questo fungo? Eccolo qua. Vedete subito che cresce sugli alberi questo fungo, sul tronco degli alberi. E quindi questa è già una caratteristica perché è proprio un fungo che non cresce per terra come tutti gli altri funghi, ma proprio sugli alberi e soprattutto sugli alberi tipo gli alberi di latifoglie, ma soprattutto morenti o già morti. Il nome scientifico si chiama Erichum erinaceus, però viene conosciuto come lion's mane, quindi criniera di leone, ma anche barba di vecchio oppure testa di scimmia come viene conosciuto in Cina. È un fungo della tradizione cinese e giapponese molto antico come tutti gli altri funghi e viene utilizzato sia a livello commestibile che a livello medicinale. A livello commestibile, io non l'ho mai assaggiato, ma dicono che abbia un sapore tipo aragosta o crostaceo, quindi molto molto buono, insomma, con un sapore gradevole. È fatto proprio in questo modo, è una cascata di aghi, diciamo così, che sono un po' gommosi, sono tipo delle stalattiti che penzolano da questo fungo e sono un po' gommosi. Una volta che l'abbiamo tolti, tutti questi aghi esterni, è rappresentato tipo un cavolfiore, lo vedete nell'immagine in basso a destra, ma vedendolo così a me ricorda anche come una sezione del cervello. Non so se avete mai visto una foto di una sezione del cervello, assomiglia moltissimo. Perché vi faccio notare questo? Perché nella medicina antica esisteva in tutte le tradizioni, quindi non solo nella tradizione nostra, magari per nostra intendo mediterranea, che era più tipico, esisteva questa medicina delle segnature. Che cosa significa? Che gli antichi osservavano in natura a che cosa somigliava quella pianta, quel fiore, quella foglia, quel fungo, a quale organo somigliasse. Già da lì ci poteva ricordare che poteva essere utile per quell'organo. Ora, io vi ho detto che assomiglia al cervello, ok? Ma l'abbiamo detto in altri magari webinar che noi abbiamo due cervelli, abbiamo un cervello dell'alto e un cervello del basso. E il cervello del basso cos'è? Il nostro intestino. Ecco che questo fungo, in poche parole, guardando la segnatura, quindi guardando l'immagine, ci dice già che lavora nella nostra testa, nel nostro cervello, quindi nel nostro sistema nervoso, ma anche in tutto l'apparato gastroenterico. Interessante perché cresce ancora in tutto il nord, nel settore nord, dall'Europa all'Asia fino al nord America e quindi è un fungo molto diffuso. La leggenda. La leggenda. E allora, questo fungo ha un po' un aspetto ultraterreno, lo vedete? Sembra una cascata, non si capisce un fantasma, un fantasmino. Viene in mente anche un fantasmino. Infatti proprio la descrizione che ne fanno i testi antichi, quindi come barba bianca, testa di maiale, testa di scimmia, ma veniva chiamato anche pompon blanche, che è dal francese, il pompon bianco, no? Ricorda un po' questa cosa. Quindi viene chiamato in tantissimi modi. Certo che non passa sicuramente inosservato, nel senso che anche se uno che non va a funghi però se si trova questa cosa nel bosco. Sì, sì, lo trovi. In Corea viene chiamato addirittura coda di cervo. I giapponesi lo chiamano Yamabushi Take. Take significa fungo. Yamabushi, chi erano gli Yamabushi? Erano dei personaggi molto mistici della tradizione buddista che vivevano in mezzo ai boschi, molto isolati e molto, diciamo così, nascosti. Proprio lasciavano quello che erano i paesi, le città, per vivere in solitudine nei boschi, proprio per cercare sempre di più la loro spiritualità e innalzarla al massimo. E sono molto simili a dei personaggi che fanno parte della Cina antica, che si chiamavano Xiaren, e Xiaren significa proprio santo o immortale. E queste persone, che erano taoiste in questo caso, seguivano una filosofia proprio isolata di lasciare andare, di stare nella meditazione, ma soprattutto di praticare quelle che erano quelle tecniche tipo la respirazione energetica, le arti marziali, soprattutto il Kung Fu interno e esterno, quindi per far crescere la propria spiritualità, o il Qi Kung, fino a raggiungere, o quello che tentavano di raggiungere, era questa immortalità spirituale e fisica. Ma soprattutto alimentavano il loro Qi. Il Qi per i cinesi, noi lo sappiamo, è l'energia. E ci sono vari Qi per la medicina cinese, ma il Qi è l'essenza che ci tiene in vita, perché a seconda del tipo di energia, noi riusciamo a alimentare tutti i nostri organi, questo secondo la medicina cinese. Ed erano questi personaggi anche maestri nell'uso di erbe officinali, o di tutto ciò che si trova nel bosco. Questa conoscenza poi la insegnavano ai loro concittadini, tutte le volte che scendevano nei villaggi per procurarsi quelli di cui avevano bisogno. In Nord America, i nativi nordamericani usavano l'ericium come antiemorragico e veniva applicato, essiccato sulle ferite o sulle abrasioni proprio per chiudere l'emorragia. Quindi, come vedete, in tutto l'emisfero nord questo fungo viene utilizzato sin dall'antichità. Era un fungo molto raro e quindi, proprio come questi personaggi molto fiabeschi non si facevano vedere, si diceva che il fungo era altrettanto raro proprio perché facevi fatica a trovarlo. Ma dal 1980, in una zona della California, si sono sviluppate delle coltivazioni proprio perché un micologo, un certo Malcolm Clark, studiò per tre giorni questo fungo in natura e lo riprodusse poi in laboratorio. Una volta riprodotto in laboratorio, attraverso le spore chiaramente l'ha riprodotto, lo portò a uno chef di un ristorante gourmet californiano ed allora i più grandi chef, i più grandi, i ristoranti gourmet hanno nel loro menù anche questo tipo di cibo che, come vi ripeto, sa un po' di Aragosta. Ed è proprio stato depositato il nome di questo fungo come Pompom Blanche, quindi un nome un po' francese, non Lion's Mane o Sciglietto. Ovviamente fa un po' più figo, no? a dare un nome un piatto, un nome francese. Quindi dagli ultimi, diciamo così, dal 1990, insomma negli ultimi anni, non è più un raro tesoro trovare questo fungo perché si coltiva anche qua, si è trovata una tecnica di coltivazione. Quindi è un pochino più diffuso. L'ha trovata da un po', qua lo vediamo in alcune zuppette che possono ricordare anche magari le zuppe di crostacea. Esatto. Addirittura in Cina viene utilizzato spesso come sostituto della carne, eh? Ah, ok. Quindi è un fungo che viene utilizzato diciamo abbastanza normalmente. Come dicevo, in medicina tradizionale cinese è da sempre utilizzato ed è un fungo indicato per la loggia, la nostra loggia terra, quindi milza, pancreas, stomaco. Perché? Perché è un fungo che lavora soprattutto sul gastroenterico, ma lavorando sul gastroenterico noi sappiamo che lo stomaco è legato all'ansia, è legato anche, quindi migliora anche lo stress, migliora l'insonnia, ecco. Quindi abbiamo anche tutti questi effetti di, chiamiamoli così, che per la medicina nostra è diciamo che la medicina allopatica sono più aspetti referiti al sistema nervoso, ma in realtà lo stomaco è un grande maestro di questi aspetti, quindi per la medicina tradizionale cinese viene legato tutto alla loggia terra. Il colore del fungo è bianco, va dal bianco a rosino, quando lo trovate giallo vuol dire che è passato, un po' come tutti i funghi insomma, senza che ci sia nulla di strano, per cui per il colore bianco e proprio perché nasce alla fine dell'estate e quindi verso l'autunno è già un fungo che va bene anche per il metallo e qui vediamo intestino crasso, ma a volte anche per il rene, quindi anche per la vescica, per la nostra vescica. Questo tutto ci arriva dalla medicina cinese. La medicina cinese in antichità parlava di questo fungo molto importante, intanto veniva offerto solo alla famiglia reale proprio per mantenere sana la loro salute e per preservarli fino a tardetà e questo fa molto coppia con il ganoderma, venivano dati questi due funghi insieme, però veniva definito come il fungo dai tendini d'acciaio e la memoria di leone. Vedete che anche qui già ci svela che cosa può essere utilizzato questo fungo. È sempre visto, è stato sempre visto, come vi raccontavo prima, un po' anche per questa leggenda di questi personaggi, di questi monaci un po' isolati, un fungo un po' spirituale, però è anche un fungo che per la medicina cinese non solo nutre l'intestino, ma fortifica anche la milza. Milza pancreas per i cinesi è la stessa cosa. Ok? Noi sappiamo che sono due organi diversi, ma è un unico meridiano perché nella medicina cinese viene considerato un unico organo, milza e pancreas. Si dice anche che non solo nutre queste cose, ma nutre tutti i cinque organi interni che per la medicina cinese sono polmone, cuore, milza, pancreas, reni e fegato. Quindi come vedete viene utilizzato per promuovere tutto il gastroenterico, ma anche la circolazione, perché il cuore è legato anche alla circolazione. Quello che fa sicuramente la Lion's Mane è di far sviluppare, viene studiato soprattutto negli ultimi anni per le sue capacità neuroprotettive, perché proprio promuove la crescita dei neurini, che sono, poi lo vedremo dopo, una parte del sistema nervoso. Quindi è molto molto importante. I suoi principi attivi. Perfetto, vediamo sui principi attivi come agiscono sugli organi appunto che hai citato prima. Esatto, ne ha tantissimi. Ne ha tantissimi. Sono diversi, sono importantissimi. Noi li vediamo, i beta-glucani che sono immunostubulanti, antibatterici, sono pochini, si ripetono un po', i principi attivi dei primi. I triterbeni, che servono sempre per il nostro sistema immunitario, i polisaccalidi e polipeptiti, che sono antinfiammatori, anche questi antibatterici, ma controllano il colesterolo. Già questo incomincia a dirci qualcosa. Erinacine, erinacione, ericenoni, c'è una di in più, che favoriscono la digestione, ma soprattutto svolgono un'azione neuroprotettiva. I fenoli, erinacione, erinacine, quindi ancora, vanno a stimolare quello che è il fattore di crescita dei nervi, o il nerve growth factor, l'NGF. Sul nerve growth factor, Rita Levi di Montalcini, ci ha vinto un bel premio Nobel, ed è una proteina che sviluppa e mantiene la plasticità del nostro sistema nervoso, quindi è molto importante. Contiene selenio, vitamine, vitamina D e quelle del gruppo B, aminoacidi, potassio, e poi anche un po' di metalli. Quindi, come vedete, ha un fungo molto completo nella sua interezza, ok? Dove lo andremo a utilizzare nella salute? Beh, diciamo che soprattutto noi vediamo, abbiamo fatto questo schema per darvi un po' un'idea, sul sistema nervoso, no? Ne parleremo tra poco, sul sistema digestivo, sul sistema immunitario e anche sulla circolazione del sangue. Quindi, partiamo dal sistema nervoso. Ok, che cos'è il nostro sistema nervoso? Il nostro sistema nervoso è composto da un sistema nervoso centrale e da un sistema nervoso periferico. Il sistema nervoso centrale, diciamo, la riassumiamo molto perché il sistema nervoso meriterebbe una lezione di anatomia troppo grossa, non abbiamo il tempo, però sarebbe il cervello e il midollo spinale. Poi, il sistema nervoso periferico sono tutti i nervi che dal midollo spinale partono e arrivano in tutti gli organi fino alla periferia. Quello che vediamo nel centro della diapositiva, questa specie di schizzettino, sembra un po' una cosa elettrica e in realtà il nostro sistema nervoso è quello che ci dà energia. Funziona a due volt. Quindi il nostro sistema nervoso è molto importante perché è energetico, ma energetico nel senso di elettrico anche e questo che noi vediamo rappresentato è un nervo con questi manicotti che noi vediamo che sono la mielina e questi tentacoli alla fine sono i nervi che poi si dipartono e vanno negli organi o in periferia. E' chiaro che comunica con tutto il sistema corpo. In tutte le parti ci sono i nervi. Dove i nervi vengono denervati, cioè quando si dice non sente più la sensibilità, il nervo si è un po' addormentato. Ecco, cosa succede? Succede che non arrivano i segnali elettrici, quindi significa che non riusciremo a fare determinate azioni che ci servono in quel distretto corporeo. Quindi vedete com'è molto molto importante il nostro sistema nervoso. Quando si danneggia abbiamo un grosso un grosso handicap nella nostra vita perché avremo delle cose che non riusciremo più a fare. Pensate a una persona non so se ne avete mai conosciute che ha avuto un'ischemia, un ictus. È molto importante questa o uno schiacciamento di un nervo per, non so, una protrusione anche sulla colonna vertebrale o un'ernia. Sono parecchio gravi come malattie. Quindi ecco perché è importante questo fungo. Perché stimolando il fattore di crescita dei nervi, l'NGF, abbiamo anche la possibilità di ricostruire la mielina. Il fattore di crescita dei nervi è coinvolto soprattutto nel mantenimento delle cellule nervose in buono stato. Degrada, diminuisce con l'età ai noi e quindi non può essere rimpiazzato e quindi cosa succede? Succede che ci sono tutte quelle problematiche legate all'età. Perdita di memoria, un po' di demenza senile oppure fino ad arrivare alle malattie degenerative come Parkinson o come Alzheimer che sappiamo che sono veramente delle malattie terribili, terribili ma anche la sclerosi multipla ma vediamo anche qualcosa di meno grave come può essere un po' di ansia o anche la depressione. Tutte queste sono sfaccettature del nostro sistema nervoso che invecchiando possono comparire anche la demenza senile ma anche il forte stress fanno parte di queste cose quindi come vedete sono tante le sfaccettature che possono creare una carenza del nostro nervo fatto e quindi migliorare Patrizia quindi questo vuol dire che prima della scoperta della riteria di Montalcino di Montalcino appunto oppure con la sua scoperta il nerve growth factor può nella realtà aiutare i nervi a ricostituirsi più che a mantenersi sani a mantenersi sani diciamo così e a ricostruire quella che è la mielina ok che la vediamo tra un attimo e la novità è stata proprio questa che esiste qualcosa che può delle proteine che possono attivare questo nerve growth factor per aiutarlo a diciamo lo mantiene attivo a mantenere esatto lo mantiene attivo quindi il mantenere attivo questa proteina questa funzione ci fa invecchiare meglio cioè ci fa invecchiare ma senza avere diciamo così i deficit cognitivi stiamo parlando dei deficit cognitivi in questo caso i deficit cognitivi degli anziani voi sapete che gli anziani sono più lenti nelle azioni ma sono più lenti anche nel darti le risposte si dimenticano le cose il nerve growth factor agisce soprattutto sulla memoria a breve termine quindi è importante ericenone e erinacina sono i due principi attivi che stimolano proprio la produzione e il mantenimento del nerve growth factor e quindi mantiene in buona salute i nostri nervi vedete che qui c'è un cervello non vi ricordo l'immagine di prima vedete che la richiamano mentre quello che vediamo qua sono le connessioni che abbiamo all'interno del cervello quindi tutte le sinapsi che partono e come vedete questi puntini luminosi sono proprio le informazioni che viaggiano nei nervi guardate se non sembrano proprio delle lampadine che si accendono quando ne abbiamo bisogno e quindi è molto interessante questa cosa sì è molto interessante eccola qui parliamo della mielina ok non ve l'ho anticipato prima perché avevamo questa immagine che la spiega benissimo la mielina come vedete qui ci sono dei fili elettrici questo invece è il nostro nervo con intorno la mielina nell'immagine in basso a sinistra come vedete il filo elettrico assomiglia moltissimo al nostro nervo con intorno alla mielina la mielina mantiene sano il nervo così come la plastica intorno al nostro conduttore che in quel caso lì è rame non fa andare in cortocircuito il nostro impianto elettrico di casa nostra praticamente ecco cosa succede che a volte questa mielina si degrada lo vedete nell'immagine in basso a sinistra dove la prima parte ha una mielina sana la seconda ha una mielina degradata quindi la mielina sono questi manicotti un po' cicciottini che stanno sui nervi il segnale elettrico non fa tutto il filo ok ma salta quindi questi manicotti fa saltare l'informazione quindi l'informazione arriva velocissimamente noi stiamo già pensando una cosa la nostra mano l'ha già fatta senza che ci pensiamo miliardi di tempo facciamo più fatica a spiegare una cosa che non farla perché il segnale elettrico è più veloce della parola quindi la luce è più veloce del suono lo sappiamo lo sappiamo tutti se dovessimo aspettare il rumore di una stella siamo già morti ora che arriva la luce la vediamo ok quindi la mielina è molto importante soprattutto nella sclerosi multipla perché perché va a mantenere la possibilità di funzionare bene i nervi la sclerosi multipla è proprio una carenza mielinica ecco qua che il nostro lion's mane ricostruisce ripare e ringiovenesce la mielina quindi non è che riforma il nervo riforma quello strumento che lo mantiene ma che ci fa viaggiare più velocemente quello che è il messaggio quindi la guaina viene viene mantenuta sana e quindi può essere danneggiata da alcune malattie ci sono proprio anche delle malattie che colpiscono solo la mielina senza essere sclerosi per fortuna ma possono anche riparare queste piccole lesioni quindi mantenere il sistema nervoso nel suo funzionamento reale ok inoltre vediamo un'altra importante funzione esatto nelle funzioni cerebrali lo dicevamo già prima sicuramente migliora la memoria a breve termine ok ma migliora anche la concentrazione perché perché mantiene i neuroni sani e mantiene sane e intatte tutte le sinapsi che noi abbiamo nel nostro cervello quindi abbiamo veramente delle cose molto molto importanti di questo fungo una cosa che magari vi anticipo adesso perché perché quando dobbiamo mantenere la memoria bella attiva no l'aveva un po' anticipato anche l'era rosa nella presentazione non solo quando siamo impegnati negli studi quando siamo impegnati nel lavoro come me per esempio in questo momento ma anche quando siamo degli sportivi soprattutto degli sportivi che fanno agonismo noi sappiamo che la concentrazione nello sport è molto importante perché perché ci mantiene il focus di dove dobbiamo arrivare senza distrarci quindi può essere un ottimo integratore anche per chi pratica sport a livello intensivo agonistico non solo per la concentrazione ma anche perché lo vedremo tra un po' contrasta le infiammazioni e quindi fa recuperare più velocemente il lavoro muscolare dopo l'infiammazione dello sforzo agonistico noi sappiamo che lo sport fa bene però infiamma se è fatto a livello agonistico quindi dobbiamo anche recuperare inoltre ci aiuta anche l'avevamo un po' anticipato prima in quelli che possono essere delle casi meno gravi ok ma che hanno sempre a che fare con il nostro sistema nervoso che può essere l'irritabilità ma anche l'ansia o anche la depressione quindi ci aiuta a diciamo così equilibrare tutte queste cose quindi molto interessante veramente abbiamo parlato anche però del tratto gastrointestinale perfetto collegando poi il secondo intestino esatto quindi abbiamo parlato del primo cervello parliamo del secondo cervello il secondo cervello è proprio tutto il nostro intestino però a livello intestino si collega anche tutto l'apparato gastroenterico ok e per apparato gastroenterico qui noi abbiamo lo stomaco l'intestino tenue l'intestino crasso il fegato il pancreas quindi come vedete tutto 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 tutti gli organi che rientrano nella digestione chiamiamola così proprio l'ion's me è eccellente su tutte queste cose adesso li vedremo piano piano soprattutto sullo stomaco perché perché riduce le infiammazioni riduce la gastrite aiuta a bilanciare la produzione di acido cloritico quindi pensate anche alle ulcere le ulcere sono un eccesso di acido cloritico ma anche la cattiva digestione tutto quello che può essere legato a queste cose ecco ci aiuta a mantenere sani queste cose migliorando anche la la digestione delle proteine e ripara tra le altre cose lo stato della mucosa quindi evita le ulcere chiaramente ma aiuta anche a eliminare i batteri patogeni nello stomaco come l'elicobatter pilori quindi come vedete fa tantissime cose in più ci aiuta non è proprio adesso io non voglio fare non voglio fare i nomi di di farmaci però non è che sia proprio come un antiacido ok ma agisce più o meno così proprio perché ci equilibra anche l'acidità dello stomaco quindi ci evita che sia un'iperacidità ok quindi va senza fare nomi io ho detto un antiacido un antiacido esatto quindi potrebbe anche magari aiutarci se abbiamo magari avuto una digestione magari cattiva dovuta magari a un eccessivo bagordo o cose del genere no magari potrebbe aiutarci anche in questi casi è importante magari bevuto un pochino così e la situazione del tuo acido del tuo stomaco insomma non ti aiuta e magari fai fatica esatto ci può aiutare a rimetterci in bolla velocemente specialmente se ti devi sdraiare immediatamente perché devi andare a letto quindi non hai la possibilità di stare di stare alzata quindi lo stomaco quando sei sdraiati insomma esatto migliora le sue funzioni esatto intestino tenue è in grado di rafforzare la mucosa abbiamo detto prima quindi la mucosa dell'intestino tenue è importantissima è importantissima perché questo è il nostro vero cervello del basso ne abbiamo parlato ormai in quasi tutte le cose sappiamo che se abbiamo un intestino buono che funziona bene anche il nostro sistema immunitario è molto più alto quindi riusciamo a combattere molto meglio qualsiasi virus o qualsiasi batterio che è intorno a noi ripare e mantiene sano l'intestino ma soprattutto il rivestimento dell'intestino vediamo due immagini qua sotto ve le faccio vedere in modo molto chiaro perché magari vi può aiutare beh a destra abbiamo il l'intestino questi queste sua sorta di dita un po' permeabile che vedete che vengono su sono i villi intestinali davanti c'è scritto quando si è celiaco si perdono i villi intestinali i villi intestinali sono se guardate l'immagine che c'è invece a sinistra queste specie di spazzoline che vedete sopra questi tubotti questi barattolini con dentro la pallina rossa allora questi questi barattolini con sopra questi 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 spazzolini non sono altro che le cellule del nostro intestino della nostra mucosa intestinale cosa succede se il nostro intestino funziona bene le cellule sono attaccate una all'altra e quindi dai villi passano solamente quei nutrimenti che sono corretti cosa succede che quando passano oltre la cellula da sotto lo vedete c'è questo tubicino con questi pallini rossi non è nient'altro che un vaso sanguigno quindi le diciamo così gli alimenti spezzettati smioiti quindi le nostre proteine le nostre vitamine entrano nel circolo sanguigno e vanno dove devono andare se invece il nostro intestino non sta bene succede che si crea questa fessura ok la vedete questo spazio in grande ok questa fessura crea quello che ultimamente si chiama leaky gut syndrome o meglio è una sindrome che potrebbe essere vista come una celiachia ma è soprattutto una sindrome di intolleranza al glutine quindi questo per dire è la sindrome dell'intestino permeabile questo esatto esatto e quindi da qui tutte le intolleranze al glutine tutte le varie intolleranze e via dicendo quindi vedete com'è importante mantenere anche la mucosa intestinale che funzioni bene perché la mucosa sono queste celluline qua ok fantastico l'intestino crasso perché abbiamo detto che funziona benissimo sul sistema nervoso quindi funziona anche sulla motilità perché la motilità del sistema dell'intestino crasso è dato da un impulso nervoso e di conseguenza noi avremo meno problemi di costipazione e di conseguenza meno problemi di emorroidi perché sono un po' legate queste cose ok e proprio perché abbiamo un movimento dei i movimenti distalsici del colon sono più attivi e quindi abbiamo anche una migliore evacuazione avere un colon pulito avere un colon con una giusta evacuazione ci mantiene anche molto più a lungo in salute perché se no c'è una fermentazione di tutti ciò che sono i residui e può creare quindi anche dei fastidi insomma pancia gonfia e via dicendo e quindi non ci sentiamo benissimo certo ecco qua sempre l'intestino crasso riduce le infiammazioni chiaramente e le infiammazioni diciamo così più immediate dell'intestino crasso è la colite oppure può essere quello che viene chiamato alveo alterno colite stipsi periodi alternati fino a arrivare al morbo di Crohn ok che è più importante come esatto che diciamo che è un po' una degradazione di quello che può essere il problema ok il fegato sì perché lavora sul fegato perché migliora la funzionalità sia della bile che la funzionalità del fegato ma quello che è interessante non è tanto questo ma soprattutto perché regola i lipidi nel sangue cioè abbassa i trigliceridi e l'LDL è quello che viene chiamato il colesterolo cattivo e migliora il livello di colesterolo HDL che è quello che viene chiamato colesterolo buono l'LDL è quello che si ossida e si deposita nelle arterie e quindi rende le arterie rigide ecco perché è importante averne poco perché un'arteria rigida può creare vari problemi che sono più a livello cardiaco o circolatorio che può portare all'infarto ma può portare anche a una demenza senile o un'arteriosclerosi ok quindi ecco perché è importante tenere bassi questi grassi cattivi nel sangue sappiamo che il colesterolo però è importantissimo perché perché va ad alimentare quella che è la membrana cellulare quindi mantiene le nostre cellule sane però è quello buono non è quello cattivo ok un giusto bilanciamento insomma un giusto bilanciamento tra i due esatto altro organo importante il pancreas ecco è molto importante sul pancreas e ci sono stati degli studi ci sono vari studi su questo fungo ce ne sono tanti però la maggior parte ripeto sono stati fatti sugli animali e quindi in laboratorio sui ratti per animali intendo ratti e oppure in provetta quindi molte ricerche a livello umano non sono ancora state confermate sono ancora in campo di studio ma non ancora confermate al momento anche qua ci sono stati degli studi fatti abbastanza recenti nel 2013 che hanno migliorato la gestione del livello di glucosa nel sangue e quindi diminuiti i sintomi di diabete e quindi nei ratti per intenderci quindi è stato definito che riesce a controllare anche quello che è la gestione dello zucchero nel sangue ok migliora veramente bene la gestione degli zuccheri abbassando quello che è il glucosa nel sangue anche perché si è scoperto che una delle tecniche che mette in atto questo fungo che cosa fa non ci fa assorbire tutti gli zuccheri dei carboidrati quindi assumiamo meno zuccheri con questo però ripeto sono sempre però non è che dobbiamo mangiare più pasta perché prendiamo alliance giusto però sappiamo che soprattutto i carboidrati ci forniscono una serie di zuccheri che poi non riusciamo mai a smaltire ecco quindi questo riesce a regolare la gestione dell'assunzione dei carboidrati ecco perché funziona bene anche a livello pancreatico e quindi può essere un antidiabetico aumenta il livello degli interferoni aumenta il livello delle natural killer aumenta il lavoro dei macrofagi e dei linfociti ma soprattutto migliora l'intestino e noi sappiamo che il 70% del sistema immunitario è nel nostro intestino quindi è vero che fa anche queste cose ma sappiate che questo fungo agisce soprattutto a livello intestinale quindi il nostro sistema immunitario viene innalzato per l'intestino sto parlando di questo fungo esatto cioè è un riflesso del miglioramento dell'intestino esatto esatto basi sanguini basi sanguini l'abbiamo accennato prima quando parlavamo di colesterolo pressione alta diabete malattie cardiovascolari sono tutte malattie che possono diventare degenerative e quindi creare dei grossi problemi nell'ultima parte della nostra vita ma se manteniamo sia le arterie che le vene pulite sicuramente miglioriamo anche la nostra salute cardiaca trigliceridi e colesterolo cattivo in questo lo fanno da padrone e hanno quindi anche un'azione antinfiammatoria sul muscolo cardiaco proprio come fungo ok e sembrerebbe che sia un tipo di ericenone l'ericenone B che abbia questa funzione antinfiammatoria sul 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 cuore ha anche un effetto ipotensivo quindi cerca di controllare la pressione voi sapete sempre che i funghi non vanno né a aggiungere né a togliere ma vanno a regolare quindi ipotensivo significa che vi riequilibri alla pressione è in grado quindi di migliorare anche il microcircolo come vedete lavora sia su arterie che su vene ok quindi ha proprio queste proprietà antinfiammatoria molto molto interessanti benissimo mi sembra che abbiamo detto veramente tante cose che hanno riguardato diversi organi già penso che i nostri diciamo ascoltatori avranno cercato di capire cosa potrebbe far bene a loro il nostro il nostro lion's mane vediamo però se ci sono delle controindicazioni ed eventualmente quali sono allora grosse controindicazioni questo fungo non ne ha non ne ha a meno che non si allergici ai funghi e anche tutti gli effetti collaterali che si possono avere dal mal di testa al gonfione sono legate quasi sempre alle allergie un'attenzione io la metterei laddove ci sono dei io dico sempre che questi sono integratori di prevenzione non di cura ok però è vero che stimola abbiamo detto stimola soprattutto la riproduzione dei nervi il nerve growth factor ecco allora se ci sono stati dei casi di cancri al cervello gliomi o cose del genere io lo eviterei nei ragazzi va sempre dosato sul peso quindi vanno sempre seguiti da un terapeuta o da un medico perché va sempre dosato sul peso e sull'età lo darei dai 12 anni in su non prima 10-12 anni poi dipende un po' anche dalla corporatura del ragazzo ci possono essere ragazzi già adulti e magari ragazzine ancora scriccioline maglorline esatto dipende un po' da chi ci troviamo di fronte altre controindicazioni non ne ha questo fungo bene sempre meglio non usarlo in gravidanza o in allattamento ma questo ma perché tutti gli integratori sono così ma non è una controindicazione tipica di questo fungo dove lo troviamo lo troviamo in DXN questo è il nostro ericium è così da almeno 8 anni c'era quando lo sto assumendo io sono delle delle compresse molto piccole di triangolini come la nostra spirulina come dimensione non hanno nessun sapore particolare nel senso non sono amare come il ganoderma eccetera quindi si prendono tranquillamente il dosaggio diciamo che il dosaggio consigliato che c'è anche sulla confezione sono 6 compresse 6 compresse al giorno ogni compressa è di 300 mg al 60% di ericium quindi 6 compresse sono pari circa a un grammo quindi è una diciamo una dose medio media insomma medio medio bassa per un fungo ecco se prendete naturalmente soltanto questo fungo oppure lo associate ad altri funghi fate un po' diciamo voi le vostre le vostre proporzioni considerazioni comunque se lo prendete da solo 6 compresse al giorno sono sicuramente più che sufficienti 6 tavolette io direi che con questa presentazione la abbiamo abbiamo finito ovviamente come al solito lasciamo la parola ai delle rosa se per caso ci sono delle domande dei nostri ascoltatori distributori eccetera o magari delle esperienze anche da da condividere invito magari a scrivere magari direttamente a delle rosa oppure non so delle rosa se ci sono delle domande stasera alle quali magari patrizia vuole vuole rispondere altrimenti scrivete tranquillamente ad delle rosa quindi le rosa lascio lascio a te la parola eccola qua eccoci intanto patrizia e paola grazie per la presentazione perché come sempre sarà interessantissima poi ci avete raccontato proprio tante 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 cose che in realtà non avevamo ancora sentito è vero come diceva paola che era un po' di tempo che non trattavamo questo fungo però in realtà le volte scorse l'avevamo fatto diciamo erano state soprattutto Jane e il dottor Savera che ci avevano parlato della e in realtà loro ho dato un approccio un po' più orientale in questo caso invece patrizia è stata secondo me più vicina alle nostre esigenze più vicina ai nostri usi e costumi quindi secondo me è stata ancora più utile ancora più pertinente diciamo allora ci sono tantissime tantissimi feedback che ci stanno arrivando di persone che lo utilizzano da tanto tempo che dicono di avere riscontrato notevoli benefici addirittura che dopo averlo assunto per un lungo periodo hanno come dicevi anche tu Patrizia migliorato i livelli del colesterolo buono quindi ci sono tantissimi feedback positivi ci stavano chiedendo se è consigliabile prenderlo prima durante o dopo i passi per esempio quella può essere una domanda che forse potrebbe essere utile come esperienza personale io lo prendo al mattino ma giusto perché li prendo al mattino gli integratori per poi non dimenticarmi durante la giornata con quella magari osservazione che per esempio in caso di come avevo detto prima magari una cena pesante un qualcosa di situazione un attimino di dolore allo stomaco di bruciore allora in quel caso alla sera prima di andare a letto l'occorrenza ecco poi durante la giornata Patrizia non so se non penso ci siano particolari orari no non ci sono particolari orari dipende un attimino se si riesce se dipende dalle persone io non è un integratore che va per forza preso prima dopo durante possiamo prenderlo quando vogliamo sicuramente se facciamo gli alimenti quindi secondo me non ci sono delle particolari restrizioni ricordiamoci sempre che i nostri funghi sono degli alimenti quindi esatto non ci dovrebbero essere delle controindicazioni se li usiamo ad un orario fra virgolette sbagliato poi se mai il nostro organismo che ci suggerisce se li accetta meglio ad un orario piuttosto che ad un altro però non ci sono delle controindicazioni per un orario sbagliato no anche perché non è uno stimolante un rilassante quindi abbiamo degli orari da assumere come può essere altri integratori ecco diciamo che è un diciamo il riposo il sonno l'addormentarsi un attimo il guidare no non è un fungo di questo tipo diciamo che è sempre un fungo quindi lavoriamo sempre sulla prevenzione quindi non possiamo non so se parliamo di concentrazione non possiamo assumere oggi per oggi ok dobbiamo dargli un attimo di un tempo ecco esatto esatto reagire in questo senso sì quindi possiamo se siamo su un periodo stressante che può essere una gara o un esame incominciamo ad assumerlo un pochino di settimane almeno prima sì due o tre settimane prima diciamo se un mese è meglio perché così anche nella fase dello studio aiuta perché la concentrazione è maggiore la lucidità mentale è maggiore quindi aiuta anche da quel punto di vista poi ci sono c'è una domanda specifica per una interazione con dei farmaci in quel caso io preferisco sempre che venga chiesto al proprio medico se può essere assunto questo prodotto perché come abbiamo detto è vero che sono dei prodotti alimentari è vero che sono dei funghi però in situazioni di particolari patologie o in situazioni in cui vengono utilizzati dei farmaci specifici mai prendere iniziative personali chiedere sempre al proprio medico dal quale si è in cura perché è sempre per una questione di chiarezza per una questione di tranquillità nostra anche delle persone alle quali suggeriamo e proponiamo i nostri prodotti è sempre ben essere chiari e trasparenti e far vedere l'etichetta del prodotto al proprio medico e sentire qual è il proprio parere oppure rivolgersi ad un naturopata se il proprio medico non è a conoscenza di questi prodotti e può capitare spesso certo capita però mai fai da te mai fai da te quando ci sono dei farmaci importanti mai il fai da te poi in realtà no non ci sono delle altre domande perché ripeto Patrizia tu è sempre così chiara racconti tutto vai sempre oltre quelle che sono le aspettative perché ci tiri fuori tutte le varie le varie esperienze che hai trovato i vari studi e le ricerche che sono state fatte quindi anticipi sempre tutte le domande e poi i nostri ascoltatori sono molto attenti quindi poi non so sicuramente ormai ognuno ognuno di noi quando c'è un argomento così un po' nuovo va in internet mette ricium o lion su quello che è e trova qualcosa e sicuramente vi sarete un attimino ritrovati perché gli argomenti che ha trattato Patrizia sono veramente che riguardano questo fungo sono veramente tanti e sono più o meno quelli che vengono comunque citati se non altri di più quelle che ho detto stasera nelle varie riviste o nei forum che parlano di salute e bene salute e vedrete sempre degli anche degli articoli aggiornati in un senso se ne sta parlando sempre di più sempre di più è vero l'interesse sulla micoterapia è sempre maggiore il coinvolgimento anche delle persone è sempre maggiore perché soprattutto in questi periodi in cui siamo bombardati da notizie allarmisti che ci predisponiamo di più verso una prevenzione quindi verso un anticipare i problemi perché no anche in questo caso sicuramente il Lions Main può esserci d'aiuto sicuramente se si possono prendere i vari integratori al mattino sì assolutamente sì come diceva Paola se per questione di comunità viene più facile prenderli al mattino perché no io anche preferisco al mattino e prima dei passi c'è chi invece li distribuisce nell'arco della giornata ma come diceva Patrizia non ci sono controindicazioni se l'orario cambia o se un giorno si prende ad un orario e il giorno successivo si prende ad un altro non succede assolutamente nulla non sono farmaci esatto quindi non hanno delle restrizioni particolari e non so se magari sono le dosagge le sei compresse c'è chi può prenderne tre al mattino e alla sera insomma se ritenete di non prenderne sei per una volta sola Patrizia qualche altro suggerimento che ti può venire in mente? no no stavo pensando proprio che come che come fungo è un fungo molto interessante sicuramente da quello che dicono gli studi da quello che si sente da quello che anche del periodo che stiamo attraversando problemi cognitivi sono in aumento così come i grossi problemi di concentrazione di mancanza di concentrazione sono veramente in aumento quindi tutto quello che può può aiutarci a stare meglio come integratore diciamo quando non ha controindicazioni come in questo caso il Lion's Mane perché in questo caso abbiamo visto che non ha grosse controindicazioni altri funghi avevano più controindicazioni dovevamo stare attenti a più cose qua in realtà no quindi potrebbe essere un'ottima soluzione anche per mantenerci attivi fino a un'età avanzata con un cervello che funziona che è un po' la paura di tutti arrivare con il cervello che non funziona più anche perché poi ovviamente come diciamo la paura l'ansia stanno creando un sacco di confusione mentale e proprio di annebbimento mentale quindi semmai può aiutare anche persone che generalmente sono più lucide a ritrovare il proprio benessere mentale oltre che quello fisico esatto esatto diciamo che poi sappiamo benissimo che nella micoterapia i funghi lavorano benissimo tutti in sinergia quindi spesso e volentieri non so io ho trovato degli studi dove la ganoderma il nostro reishi il nostro ganoderma e l'ericium vengono sovrapposti proprio perché alcune cose sono simili alcune diciamo così alcuni benefici sono molto simili o molto vicini e uno completa l'altro quindi quando parliamo di micoterapia in realtà non si parla quasi mai di un fungo singolo ma si mettono insieme sempre due o tre funghi proprio perché uno completa l'altro quindi è interessante anche un po' poterli aggiungere non so Paola prima ci diceva che lei usa il ganoderma con il lion's mane c'è anche il cordicep anche col cordicep si può certo si può anche sapendoci che però il cordicep abbiamo visto l'altra volta qualche controindicazione l'hai di più per cui stando attenti a tutte le controindicazioni però se lo prendiamo sempre come prevenzione in una quantità minima che sono le quantità consigliate sulle etichette è difficile che creino problemi ma infatti questo discorso che tu stai facendo Patrista si rilaccia molto al concetto proprio la filosofia del dottor Mim della Dixene cioè abbinare i vari funghi studiare i vari funghi per capire poi quali possono essere le loro sinergie e quali possono essere i vantaggi e in realtà in Dixene abbiamo il ganoderma abbiamo il cordicep abbiamo il lion's mane a breve avremo anche un altro fantastico fungo che vi anticipo il monascus che è un altro fungo veramente eccezionale quindi la micoterapia funziona proprio così abbinare funghi per diverse caratteristiche e per aiutarci in diverse situazioni quindi non è soltanto un fungo quindi non spaventatevi se al mattino vi trovate a prendere più pastiche o più capsule insieme perché è proprio così che lavorano i funghi in micoterapia cioè in sinergia l'uno con l'altro proprio per tirare fuori il meglio dal nostro organismo dal nostro corpo sì e come accennavamo poco fa sono esseri viventi quindi nella loro interezza non creano disequilibri ma vanno sempre a tentare di riequilibrare quello che può essere un po' la soluzione che noi vogliamo cioè difficilmente quando noi parliamo di micoterapia aggiunge o toglie qualcosa ma tende sempre a portare in riequilibrio quelli che possono essere dei valori che magari in questo momento sono in ipero in ipo nella nostra vita quindi perché perché è un fungo non è un principio attivo isolato fine a se stesso quindi ecco perché può avere anche poche meno diciamo così meno effetti collaterali ma può anche avere sempre più tante sinergie proprio perché abbiamo visto che in tutti i funghi più o meno i principi attivi sono sempre quelli poi ogni fungo ha il suo principio attivo però i principi attivi sono quasi sempre quelli ecco perché lavorano bene anche in sinergia in effetti in micoterapia non in DXN però quando troviamo micoterapia come integratori che sono quasi dei medicinali troviamo sempre più funghi all'interno quindi non ci sono controindicazioni da questo punto di vista e allora io Paola Patrizia vi ringrazio per questa bellissima relazione che ci avete raccontato ringrazio tutti i nostri amici che ci hanno seguito sia qui su Zoom che su Facebook vi ricordo che da domani sarà visibile la registrazione su Facebook e su YouTube quindi se qualcuno se l'è persa può vederla anche domani o a partire da domani grazie ancora per averci seguito mi raccomando controllate sempre sui social se ci sono delle novità delle promozioni o delle sorprese e con Patrizia ci diamo appuntamento al prossimo mese con un argomento molto interessante perché visto che ci avviciniamo all'estate ci prenderemo cura e inizieremo ad anticiparci con qualcosa di molto interessante quindi non perdete il prossimo appuntamento che sta già preparando Patrizia con Paolo invece ci vedremo nei prossimi giorni per tutta una serie di appuntamenti perché questo mese sarà ricco di webinar quindi mi raccomando seguiteci sempre e ringrazio di nuovo Patrizia e Paola grazie a voi buona serata arrivederci grazie grazie Grazie.